Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Ritratti dimenticati. Il personaggio di cui ci copiamo oggi è un giornalista, Giuliano Germi. Giuliano Germi era notissimo negli anni trenta. L'EIAR, cioè la RAI di allora, lo incaricò di seguire come principale radiocronista il Tour de France dal 5 al 31 luglio del 38. Commentò con una voce calda e una dizione impeccabile le imprese e la storica vittoria del conterranno Gino Bartali. Tre mesi dopo il Tour, a causa dei leggi graziari, l'EIAR lo licenziò in tronco e lui si trovava costretto ad abbandonare l'Italia. Giuliano era toscano, secondo i tre fratelli era infatti nato a Firenze nel 1905, ma era cresciuto a Livorno in una famiglia della buona borghesia ebraica. Il padre era un agente di cambio, mentre la madre casalinga, veneta di Venezia, era in realtà la sorella di Olga, moglie del leader socialista Claudio Treves. Nel 1919, dopo alcuni anni trascorsi a Roma, i gerbi si erano trasferiti a Milano, dove Giuliano aveva intrapreso gli studi alla Bocconi e lì si era laureato. Non si interessava di politica, ma era appassionatissimo di giornalismo sportivo. Ancora studente, infatti, iniziò a scrivere per il quotidiano Lambrosiano, dove percorso i vari gradi della carriera, fino a diventare un inviato speciale per seguire il tennis, il calcio, lo sci e il cipi. Dal 1928 aveva collaborato sempre più con la EIA, contribuendo alla riorganizzazione della redazione sportiva ed effettuando per la prima volta in Italia le radiocronache in diretta delle partite di tennis, per esempio la Coppa Davis, di gare automobilistiche e di gare di sci e soprattutto il ciclismo con i giri in Italia. Insomma, quando nel 1938 fu cacciato, era notissimo e lanciatissimo come appunto un giornalista sportivo. Lasciata l'Italia, si recò prima a Parigi, dove incontrò l'amico Giovanni Malagodi, che sarà il futuro leader del Partito Liberale, ma che all'epoca era direttore generale della Sudameris, una holding della banca commerciale. Grazie a Malagodi ottenne un incarico a Barachiglia, un porto della Colombia e poi a Bogotà, appunto nella banca commerciale. Nella prima volta del 1942 si trasferisce negli Stati Uniti per ricongiungersi col fratello Claudio, che lì si era appunto rifugiato e svolgeva l'attività di medico. Prima a Boston e poi a New York. A Boston diventa contabile in una ditta che vendeva abiti errate. Ma un giorno incontra un altro italiano, un altro ebreo italiano, cioè Alberto Landi, che in realtà come cognome faceva Levi, il quale lavorava, era annunciatore, in una stazione radio italiana di New York, WOW. Lo chiamò e gli chiese se era interessato a lavorare per il programma mattunittino di news della stessa emittente. Già nell'estate del 1942 Giuliano era stato ingaggiato dalla multilingue servizio radiofonico, che faceva capo all'Office of World Information, un ente propagandistico appena creato dal presidente Roosevelt, un lavoro che aveva degli orari molto difficili ed era sottoposto a censure politiche e militari. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, con l'aumento del numero di trasmissioni dirette verso la penisola, a Giuliano, con lo pseudonimo di Mario Verdi, venne affidato un commento radiofonico giornaliero dal 27 settembre del 1943, che durava 15 minuti e andava in onda due volte al giorno. Tecnicamente i suoi programmi erano trasmessi a Londra, via onde corte, e poi dall'Inghilterra ritrasmessi in Italia, a onde medie, e quindi con maggiori facilità di recessione. La popolarità era alta, gli arrivavano lettere sia dai prigionieri di guerra italiani, sia dai suoi concittadini, specie dopo lo sbarco alleato in Sicilia, nel luglio il 1943. Le trasmissioni erano tutte strutturate allo stesso modo. Uno speaker annunciava che stava per andare in onda il programma di Mario Verdi, poi lo stesso speaker, o Giuliano, a seconda dei periodi, davano una sintesi delle notizie principali dei vari fonti di guerra. Quindi iniziavano i 15 minuti veri e propri di Mario Verdi, in cui raccontava fatti di cronaca, ma anche opinioni che ricalcavano sempre la politica ufficiale del governo americano. Da settembre del 1943 al maggio del 1945, oltre a Mario Verdi, seguì i principali eventi bellici di politica internazionale, attenendosi strettamente però alle direttive governative riguardanti l'Italia. Era più libero di assumere giudizi su Hitler, sulla crudeltà dei tedeschi, mostrava gratitudine per gli italiani che aiutavano i prigionieri alleati a fuggire, ripeteva che una volta finita la guerra, in Italia ci sarebbe stata una democrazia. Non nascondeva assolutamente le perdite alleate, le difficoltà della risarita della penisola, delle forze di liberazione e soprattutto sosteneva l'azione dei partigiani italiani e uugoslavi, che lui chiamava Patriotti Connetti. Mostrava entusiasmo per la decisione di far combattere i soldati italiani a fianco di gli alleati. Curiosa appare poi la celebrazione del compleanno di Stein, il 21 dicembre 1943. Egli fece questo preveritato al maresciallo. Oggi il maresciallo Stalin compie 64 anni. Nell'intera vita politica e militare dell'uomo di stato sovietico, quello odierno è forse l'anniversario più lieto. Il regalo più ricco gli è giunto dai suoi soldati, il premio più ambito per aver fatto quanto erano le sue possibilità per il bene del suo paese. Tali i suoi doti sono emerse dapprima attraverso la sua politica in tempo di pace, attraverso la intesa campagna per rilevare lo spirito del popolo russo, per renderlo a questo popolo schiavizzato agli Szar, la coscienza della propria forza nazionale. Nella trasmissione del 17 luglio 1944, Giuliano racconta la liberazione della città in cui aveva vissuto la propria infanzia, Livorno. Ascoltatori italiani, buonasera. Molti ricordi mi negano a Livorno. Alcune tombe in un cimitero fuori porta, sulle quali spero un giorno poter portare ancora un fiore. Le aule della scuola elementare delle quattro stagioni e quelle al ginnazio Guerrazi, dove ho passato alcuni anni alla mia prima giovinezza. Il circolo Fides, dove Beppe Nadi, padre degli olimpionici, i fratelli Nedo e Aldo, mi hanno insegnato la scherma, la baracchina dell'Ardenza, dove ho avuto i più buoni gelati della mia vita e cento, cento altri. Una sua compagna di scuola, l'ebrea Laura Castelfranchi, ricorderà nei primi anni 80 di averlo riconosciuto dalla voce. Non posso dimenticare la commozione che mi prese il 19 luglio 1944, quando, nascosta sui monti della Versiglia, udì Giuliano Gerbi, che annunciava la liberazione di Vivorno, ricordando la scuola delle quattro stagioni dove aveva studiato. A conferma della sua fama raggiunta, ben presto i giornali fascisti presero ad attaccarlo. Nel dopoguerra, divenuto cittadino statunitense, Giuliano continuò a lavorare per le principali stazioni commerciali italo-americane, come la UOM e la UOV, oltre che per la voce dell'America, passata sotto il controllo del Departimento di Stato. Verso la fine del 1949, però, la UOV gli propose di rientrare in Italia, per realizzare un programma particolare, promosso da un'azienda alimentare denominata Progresso. Volendo incrementare le proprie vendite, tra la folta colonia di italo-americani in New York, la Progresso aveva fatto una proposta commerciale ai propri clienti. Mandateci dieci tigrette dei vostri pomodori pelati e, in cambio, noi vi faremo ascoltare alla radio le voci dei vostri cari rimasti in Italia. Un'idea geniale, per realizzare la quale fu incaggiato appunto Giuliano Gelli. Questi, dall'inizio degli anni 50, cominciò dunque a girare in lungo e largo l'Italia, soprattutto nelle regioni. Organizzava i viaggi in base alle richieste ricevute della Progresso. Incontrava, appunto, in varie sedi, come i comuni, le parrocchie o i luoghi all'aperto, i parenti degli americani. Poi registrava sui primi apparecchi professionali a nastro della Geloso, tornava alla base e montava tutto con il tagliacuci e poi mandava le bombine in America. Quelle voci incerti, quasi sempre in dialetto, provenienti dal fondo dell'Italia contadina, suscitare un'intensa commozione anche nel pubblico generico di lingua inglese. All'inizio il programma era chiamato La Grande Famiglia e andava in onda cinque volte a settimana, per un quarto d'ora. Poi, dal 1953, si arrivò a 18 trasmissioni. Questa trasmissione veniva elogiata dalle due parti dell'oceano e fu elogiata anche dal presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi. Nel 1953, purtroppo, Giuliano ebbe una perdita importantissima. Morì la moglie tedesca, Ilse Malte, e rimase con la figlia, Vivian, ancora molto piccola, aveva tre anni. Quindi decise di rimanere in Italia, abitando tra Roma, Positano e quando la trasmissione poi venne interrotta, si trasferì definitivamente a Milano, dove riprese la sua attività di agente di borsa e non tralasciando neanche quella giornalistica, però scrivendo in lingua inglese per la stampa estera, ma occupandosi prevalentemente di questioni finanziarie. La sua vita andò avanti fino a gennaio nel 1976, quando, pare per un colpo di sonno, precipitò da un viadotto autostradale mentre si stava recando nel suo buon retiro di Rockebrun, vicino a Menton, in Francia. Aveva 70 anni. e qui appunto finì la vita avventurosa di Giuliano Gerbi. Questo mio video si basa soprattutto sull'articolo pubblicato dal nipote Sandro Gerbi, il cronista di Bartali, intitolato il cronista di Bartali, pubblicato su Pretext il 9 dicembre del 2018. Bene, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di Ritratti Dimenticati. Grazie.